Avvocato, non c'è due senza tre e la terza edizione è andata molto bene, insomma sia dal punto di vista dei partecipanti ma anche poi del risultato, questi scatti veramente suggestivi. Suggestivi, bellissimi, io li ho visti adesso mentre stavo insieme a voi perché ancora non li avevo visti, perché non ho fatto parte della commissione che ha giudicato e attribuito la foto a ogni mese dell'anno di questo nuovo calendario. Noi siamo, che posso dire, siamo felicissimi, la terza edizione, la seconda per la quale poi devolviamo a tre associazioni quest'anno, l'anno scorso è stato soltanto Assoprova, quest'anno saranno tre associazioni, adesso poi vi dico anche il nome, che Assoprova rimane ma poi ci saranno mi pare Stelle Nascenti e poi Amici della Darsena Romana, che sono tre associazioni assolutamente meritevoli per quello che fanno per la cittadinanza di Civitavecchia. È una manifestazione che ci riempie di gioia perché evidentemente quest'anno il tema era i colori di Civitavecchia e hanno tirato fuori delle foto meravigliose, devo dire, dove ci hanno fatto scoprire anche a noi, che io non sono di Civitavecchia e noto, però ormai mi sento appartenente a questa comunità, ci hanno fatto scoprire dei colori, dei luoghi, delle situazioni che poi si trasformano anche, secondo me, in profumi e in sapori quando tu vedi dei colori, che sono assolutamente bellissime. Ci sono questi tramonti che sono assolutamente affascinanti, però al di là della bellezza delle foto, quello che dobbiamo trasmettere è la ricerca tutti gli anni, questo è il terzo anno e ce ne saranno anche gli anni a venire, di questa manifestazione che ci deve far scoprire tutti i luoghi di Civitavecchia per poter promuovere il territorio a tutti quanti quelli che non lo conoscono. Stiamo anche pensando a una mostra di queste cartelline di Civitavecchia degli anni scorsi e di quest'anno e sicuramente, a mio modo di vedere, dovrà continuare e ci auguriamo che avrà sempre lo stesso risultato, lo stesso seguito e la stessa passione che stanno mettendo i cittadini di Civitavecchia e credo forse anche altri, non solo di Civitavecchia, nella scoperta di questa città che io considero meravigliosa. Un'iniziativa per promuovere ma magari anche per riscoprire dal punto di vista dei Civitavecchiesi la loro città? Penso di sì, io sono romano e come tale sono uno di quelli che ama Roma ma tante cose non le conosco ogni tanto, mi rimango affascinato dal fatto che giro per la città in certi luoghi che non conosco e rimango così sbalordito da certe bellezze che proprio gli abitanti di una città non scoprono mai e che invece i turisti giustamente vengono a scoprire. Quindi questo dovrebbe servire, queste cartoline dovrebbero servire anche ai Civitavecchiesi per scoprire il loro territorio e per andare a vedere certi scorci, certi panorami che obiettivamente se uno non si sofferma, sempre preso da questa vita che evidentemente ci coinvolge e ci stravolge e quindi non hanno motivo per riflettere. Se queste cartoline possono far riflettere anche i Civitavecchiesi secondo me è una cosa bellissima.